E c'è attesa per quanto dirà nel pomeriggio Matteo Renzi che potrebbe aprire ufficialmente la crisi. Dalle altre forze di maggioranza appelli alla responsabilità. Sentiamo Barbara Romano e Luca Moriconi. La sfida tra Renzi e Conte sembra ormai giunta ad un punto di non ritorno. La decisione, il leader di Italia Viva, la annuncerà in una conferenza stampa convocata alle 17.30. Tuttavia l'ex premier fino a ieri sera lasciava aperte tutte le porte dicendo di non volere la crisi e lanciando un ultimo appello al premier. Noi diciamo, volete le nostre idee? Stiamo con voi. Non volete le nostre idee? Andate avanti con Mastella tranquillamente come se niente fosse. L'accusa di Italia Viva Conte è di essere andato a caccia di responsabili in Parlamento in queste settimane anziché cercare un'intesa e di voler raccogliere la proposta di Mastella di strutturare un gruppo in Senato disposto a fare da Sampella al governo. Se qualcuno pensa di andare alla Conta, di andare a raccattare un po' di responsabili oppure addirittura per la propria condizione personale minaccia il voto allora sì, rischia di dare il Paese alla destra. Italia Viva però stamattina ha firmato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro della Salute e ribolle il telefono di Renzi nel tentativo dei pontieri di scongiurare in extremis la crisi. Un'ultima speranza è affidata a un eventuale vertice del leader di maggioranza Palazzo Chigi ma che finora non ha trovato conferma. Difendere la maggioranza, questa maggioranza è il suo premier con il dialogo e il confronto interno è la strada del buonsenso per evitare quello che Zingaretti torna a ripetere sarebbe un grave errore politico, la crisi. Il segretario Demme chiede di ripartire dal metodo recovery plan un ottimo risultato frutto, dice del gioco di squadra quindi subito un nuovo patto di legislatura, la linea ufficiale. Quando ci si siede, si dialoga, si ascolta, si migliorano anche le posizioni in questa fase l'interesse generale è fondamentale. Nessun governo istituzionale, nessuna grande coalizione l'ipotesi dei responsabili rilanciata ieri da Bettini rimane sullo sfondo per il Nazareno tra i 5 stelle, forte l'irritazione per le mosse di Italia Viva tutti facciano un passo indietro per il bene del paese chiede Di Maio, abbiamo approvato il piano per la ricostruzione e ora serve responsabilità, la vera crisi scrive la stanno vivendo gli italiani, non la politica ed è Beppe Grillo a fare i suoi le parole del deputato Trizzino lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione per lavorare insieme, si legge, raccogliendo l'esortazione di Mattarella a diventare costruttori, mettendo al primo posto il bene comune del paese. Dobbiamo quindi lavorare senza sosta per dare risposte ai cittadini non c'è tempo per le polemiche, non c'è spazio per gli interessi personali. Aprire una crisi al buio sarebbe contro l'Italia e gli italiani fibrillazioni e polemiche, dice anche D'Aleo Fornaro non fanno uscire nessuno vincitore Speriamo quindi che prevalga la responsabilità perché quando si rompe è difficile rimettere insieme i cocci Un governo di centrodestra Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!